Ma io non riesco a capire, per se il melone c'ha tutti i semi al centro. Perché l'anguria deve rompere i coglioni? Ok, Guggo, dove possiamo andare in vacanza ad agosto con 200 euro? Puoi recarti in via Scaramuzza 44 a Paternò. Ma è casa mia! E con 200 euro dove minchia vuoi andare. Ma l'ha bucato! La narina dovrebbe sapere, no! Hai già sbagliato una volta! Anna Rita! Ho deciso che voglio fare qualcosa di significativo nella vita. E so cos'è. Scrivere. Beh, e io adesso so quello che non vorrò mai fare. Leggere. Mai più! Mai più! Ok? Mai più! Va bene! Mai più! Va bene! Guardami la mia madre! Va bene, Antonio! Vai! Figliolo, che vuoi per Natale? Voglio un orso polare! Ma sei scemo? Allora voglio che tu la smetta con la droga! Dove cazzo è il Polo Nord?